Un violento nubifraggio si è abbattuto su Ferrara verso le ore 16. Diverse strade del centro storico sono finite sott'acqua, provocando disagi ai pedoni e soprattutto al traffico. Nell'arco della giornata sono state diverse le precipitazioni che si sono alternate sulla città, ma quella del pomeriggio è stata indubbiamente la più intensa con la sporadica comparsa della grandine in alcune zone di Ferrara. Allagati diversi scantinati con la richiesta di numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. La situazione meteo si è stabilizzata verso le 17, ma non sono escluse ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.